buongiorno ragazze volevo presentarvi il mio ultimo acquisto in cucina un'impastatrice o robot da cucina della silver crest presa da lidl proprio ieri la modica cifra di 50 euro è un'impastatrice come vedete rosa rispetto agli altri impastatrici vi posso assicurare che delle dimensioni molto piccole quindi non è ingombrante a una ciotola in alluminio con paraschizzi molto importante specialmente quando si monta la panna e ha una capienza di 5 litri alla manopola per regolare l'intensità di velocità cosa molto importante il cavetto o il cavo di per attaccarla alla luce si può avvolgere nella parte sottostante dell'impastatrice ea delle piccole ventose quindi molto stabili anche sul piano di lavoro abbiamo un libretto delle istruzioni con tre ricette all'interno e abbiamo poi i vari accessori per impastare mescolare e montare ha una garanzia di tre anni e 600 watt e come ho detto prima e 5 litri io l'ho acquistata ieri alla lidl ce n'erano un bel po di pezzi e se non erro non era neanche in volantino quindi sarà qualche vecchia promozione rimasta ancora in offerta io ve la consiglio perché da tanto che la volevo acquistare e poi me ne sono innamorata perché è rosa spero vi piaccia la mia recensione e scusate ma sono un po emozionata perché la mia il mio primo video che faccio su youtube vi auguro una buona giornata e un saluto a tutte voi